Una notizia sconvolgente ha colpito il mondo del cinema e della televisione in Italia, portandosi via un'attrice straordinaria e incredibilmente famosa. Benvenuti su Quotidiano Notizie, iscrivetevi e attivate la campanella per avere tutti gli aggiornamenti. È con grande tristezza che dobbiamo comunicare la scomparsa di Chetty Roselli, avvenuta di recente all'età di soli 51 anni. Chetty Roselli era rinomata per la sua interpretazione della dottoressa Flavia Cortona nell'amatissima sopopera Cento vetrine. La notizia della sua morte è stata annunciata attraverso il profilo Instagram ufficiale dell'attrice, sebbene le cause esatte del suo decesso non siano state divulgate. Si sa, però, che Chetty Roselli stava affrontando una grave malattia da un certo periodo, dimostrando un coraggio straordinario e una volontà indomabile nell'affrontare le sfide che la vita le aveva posto dinanzi. Oggi, lamentiamo la sua perdita e ricordiamo con affetto il suo sorriso radiante che ha illuminato le nostre vite. Chetty Roselli ha lottato strenuamente fino all'ultimo respiro, dimostrando un amore profondo per la vita che non si è mai spento. Il suo ricordo rimarrà nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata, e la sua assenza sarà profondamente sentita da chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. Conoscevate l'attrice? Fatti ECL o sapere nei commenti. Arrivederci!